La poesia delle maschere della Family Flots è sbarcata al Teatro Petrarca di Arezzo ed ha acceso, come sempre, la magia. Non abbiamo la parola, allora bisogna di altri effetti, come la musica, come gli effetti sonori, le luci, tutto questo fa il spettacolo anche per noi. La maschera, la luce e anche la gente, il spettacolo succede nella testa della gente. Spettacoli muti ma che riescono a raccontare più di mille parole, grazie alle maschere mobili che prendono vita con i movimenti del corpo, esprimendo tutte le emozioni. Con il corpo possiamo dire tante cose e il corpo è anche una lingua che tutti parliamo e noi sappiamo come leggerla. Magari deve lasciare un po' il tempo al corpo, alla testa, alle emozioni di sentirlo. La compagnia berlinese ha portato in scena la nuova produzione Feste, in retroscena di una festa di matrimonio in una lussuosa villa sul mare. Tutto si svolge in un cortile sporco dove l'immondizia si accumula e le vicende personali dei personaggi si intrecciano per parlare di lotta di classe, ricerca della felicità e anche del clima che cambia in un susseguirsi di invitati, padroni e personale di servizio. 29 i personaggi della storia interpretati solamente da tre attori. Ognuno dei caratteri che recitiamo cerca la felicità, c'è qualcosa che gli piace, un desiderio e sempre ha un problema. Questo è anche il teatro, questo è anche la drammaturgia. Voglio qualcosa ma non è possibile. E magari tante volte la felicità non è si lontana, la felicità è già là. Grazie a tutti.